Ok, generale, posso regolare il volume? Cinque nevi Seals. Tre, due, uno. Per una missione... Abbiamo preso il pacco. ...impossibile. Sei sicuro? Sì. Dov'è imparato a guidare? È la prima volta! Arrivano! La vedi, la torre? Volta la giù! Vai, vai, vai! Ragazzi, ho un carro armato davanti, abbiamo uno anche dietro. Renegades, commando d'assalto. Lasciamo giù una nuotata. Venerdì alle 21, sul 20. Grazie per la visione!